alla prigioniera così iniziamo. Mi ricordo il programma di oggi, poi alle 17 ci sarà la basket 3-3 delle finali del mini palio, alle 17.30 la gincana in bicicletta e poi a seguire la staffetta d'acqua palio e la finale di pallavolo del mini palio femminile. Poi questa sera alle 20.30 palla prigioniera over 16 in lista finali e alle 21 il pezzo forte della serata la corsa con le palle di fieno. Chiaramente poi vi racconterò man mano di raffeggio, se non muoio prego. Alle 22 poi il taglio dei tronchi, che è in gioco finale. Terzo è che possiamo andare tutti a casa per prepararci per la giornata di domani. Un ringraziamento sempre diciamo alle associazioni che vedono a disposizione questi luoghi e che ci fanno mangiare e bere per tutta la giornata, quindi gli stand gastronomici sono sempre aperti. ormai conoscete i luoghi sotto i bottiglioni agli estremi della Campolità. Allora, da lì lanciano verso qui? Sì, scusate, dovevi fare questo con le palli di fieno? Facciamo un'altra locale. Potete tranquillamente andare ad addividerarvi. C'è anche, ci sono anche i cocktail, lo sapete, e quindi i nostri bartender ci fanno interpensionale, che è anche la morale, il settore, l'arte, il sangue, il pranzo, il sesto tipo di ponte. Scusatevi alla parola. Ciao, vai. Buongiorno. Dai, dai. Vediamo che c'è quello che deve giocarmi anche a palla pregiudizia. Amica, ma prendi il premazzo, è sempre stato delicato. Allora, come è la prossima oggi? Diamo benvenuto alla prossima di oggi. Ma va che dopo contesto. E' loro, ma va. Questo è quello che passa un po' di testo. Sono la più contestata. Perché rimane dentro il palio e vanno a ruba. Il potate che passa altrimenti. Vai. Vai. No, grazie. Ma va che inizia il gioco. Bello. Siamo pronti? Dai, iniziamo, dai. Una squadra per volta? Sì, rimettiamo a posto adesso. E' bello. Quanti minuti dura la... Mi dicono che ci sono due macchine da spostare che sono parcheggiate nel parcheggio attistate al campo di calcio. Scusate, grazie. Scusate, grazie. Doncino, bianco, dragato, Genova, hotel, 136X Verona. Quindi, gentilmente, i deputati dei automobili cercassero di spostare le macchine. Altri gente, dobbiamo andare in un'ora. Dai, raghi, su. Oh, le che... Forte, Tiago. Bravo, Tiago. Dai, signorine. Dai, signorine. Bravo, Tiago. Grazie. Vai, guardi, guardi, guardi. Vai, vai, vai. Vai, prendete la mira. No, sono a tra. Vai, vai, vai. Ah, un po' più forte. Vai, vai, bravo. Grandi Tiago. No, sono a tra. No, sono a tra. No, è un po' più forte. No, è un po' più forte. Vai, vai, vai. Dai, 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 con calma. Prendete la mira, prendete la mira. Bravo. 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 Ai. Bravo. Brava. Bravo. Bravo. Acceleriamo, acceleriamo, acceleriamo. bravo Tiago bravissima un po' più parabola Tiago dai 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 preghiamo la mira bravo Tiago col posto bravo bravissimi 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 stop stop così è meglio bravissimi bravi ora locate locate Varesino vai bravissimi 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 bravo 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 vai evviva bravo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.